Passiamo ora alla cronaca con una notizia aggiunta poco fa in redazione. Un uomo di 56 anni è morto a Corte Brugnatella in Valtrebbia, provincia di Piacenza. Secondo i primi accertamenti stava tagliando l'erba in un campo a bordo di un cingolato che si sarebbe ribaltato forse a causa di una buca. Inutili gli interventi dei sanitari e vigili del fuoco, il 56enne è morto sul colpo.